Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è domenica 13 giugno 2010. Ecco qua, un bel biglietto di viaggio per andare da Israele in Iran e poi tornare indietro. Un bel biglietto di viaggio. E intanto che sul palcoscenico internazionale, davanti ai vostri occhi, vi fanno danzare i video con il famoso attacco alla nave dei pacifisti che si dirigevano su Gaza. Beh, intanto che ballano questi video e che non ballano i video sulle mostruosità che avvengono in Cina, che avvengono in Africa, che avvengono in Iran, dove i giovani come voi vengono portati in galera e sodomizzati. Intanto che ballano i video su quell'episodio lì di Gaza e si accende il furore anti-ebraico e si allarga l'amore per i paesi arabi vicini a Gaza. I paesi arabi, di cui si dice che sono amici dei palestinesi, amici dei palestinesi, paesi vicini, no? I paesi vicini a Maggiortania, Arabia Saudita. Ebbene, intanto dietro le quinte si giocano i giochi quelli veri, quelli che non fanno vedere a voi ragazzi, a voi ragazzi. Perché, perdonatemi, perdonatemi, ma è tanto facile, cari ragazzi, voi siete giovani, è tanto facile prendervi per il naso, farvi credere quello che si vuole, perché voi ve lo dimenticate sempre che se la Fino Massoni è tanto tempo che ve lo ricorda e che noi viviamo in patriarcato. In patriarcato esiste il comandamento onore al padre e alla madre, ma non esiste il comandamento onore ai figli e alle figlie. Tanto è vero che la nostra classe politica continua a dire che bisogna pensare ai giovani che rappresentano il futuro della nostra patria. Però intanto pensano solo a se stessi, è perché sono loro, 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 i patres che vanno sull'autoblu, mica siete voi, ce ne abbiamo 640.000, 620.000, 640.000, sono loro che abitano a Palazzo Chigi, sono loro che abitano al Quirinale, sono loro che provenendo dalla falce e martello come Fausto Pertinotti, c'hanno l'autoblu con l'autista, sono loro i patres. Oppure sono sempre loro come Mario Capanna che dalle barricate universitarie è passato a scrivere per il giornale di Mediaset, Fininvest, Mediaset, Famiglia Berlusconi, ma lei è che ci sia il giornale della famiglia Berlusconi, per carità. Però non si capisce come mai Mario Capanna che aveva fatto rivoluzionario nel 68 a Magnifici quegli anni, adesso si è andato a scrivere per Mediaset, per Fininvest. Fininvest, sì sì lo so, che lui vi dice, eh beh ma a me il giornale fa scrivere quello che voglio, quello che voglio, la mia coscienza è salva, sì ma gli si potrebbe dire, vabbè ma tu prendi i soldi però, di cosa, della famiglia Berlusconi però, non potrebbe andare a prendere i soldi che so, di un'altra famiglia editoriale, magari un po' più a sinistra, eh? Mario Capanna, Mario Capanna, cari giorni, vedi è stato facile cari giorni a voi portarvi in giro per il naso così, facile, facilissimo, cosa avevo detto tempo fa, ma che vi ho detto quando ho fatto i video su Gaza? Ho detto, ah, i fratelli arabi, lavorano dietro le quinte, lavorano i fratelli arabi, e adesso cosa salta fuori, eh ne stanno parlando tutti ormai, e io arrivo dopo a darvi la notizia, però ve l'avevo già anticipata prima, io ve l'avevo anticipata prima dei giornali la notizia, che i fratelli arabi sul palcoscenico, sul palcoscenico sgambettano, vi fanno vedere le cosce, così voi siete tutti attratti dalle cosce, dietro le quinte invece fanno altre cosette, altre cosette contro i palestinesi, a favore di Israele, a favore di Israele, ma guarda un po', ma guarda un po', e ve l'ho detto che siamo in patriarcato, siamo in patriarcato, c'è il comandamento onore al padre e alla madre, non c'è quello onore al figlio e alla figlia, quindi di voi se ne fregano tutti, 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 a questo mondo tranne Serafino Massoni, l'unico al mondo che vi dice la verità è Serafino Massoni, voi lì non ci credete e inveite contro di me, poi dopo dice, ma guarda c'aveva ragione Serafino Massoni, non c'aveva ragione, ma che si legge, che si legge sui giornali, che si legge, qua c'è un coso, qua un blog, un blog, un blog sulla rete, apri il cielo ai jet di Israele contro l'Iran, pensate voi, pensate voi che roba, eh che cari, cari, cari giovani, come fai a prendere il pennato, cari giovani, che voi vi bevete tutto, vi bevete, credete di essere furvi, furve, ora invece vi bevete tutti, tutti lì a piangere l'acqua di un coccodrillo sulla faccenda dei pacifisti, lì sulla nave di casa, quello era il balletto, era il balletto sul palcoscenico patriarcale, dietro, intanto che voi piangevate, dietro i fratelli arabi, lì, al di là della costa, la Giordania, l'Arabia Saudita, entravano in affari con Israele, capito, entravano in affari con Israele e dicevano a Israele, va bene, va bene, con i tuoi aerei, quando te va, passa pure sui nostri cieli, di Giordania e di Arabia Saudita, passa pure tu Israele, così ci arrivi prima in Iran, non devi fare un viaggio troppo lungo e così ci hai assicurato pure la benzina per il ritorno, ci hai assicurato, cari ragazzi, cari ragazzi, ma quando è che vi sveglierete, invece di stare lì a seguire i balletti dei treatrini, che vengono preparati proprio per voi, cari, proprio per voi, ma santo, pure esiste questo canale, e approfittatene, e non fate gli sgomenti quando io vedo certe notizie, che dopo ne parlano pure i giornali di certe notizie, guarda tu per caso, guarda tu, fonti americane nel golfo, due punti, l'Arabia Saudita è pronta a garantire un corridoio aereo verso Teheran, in caso di attacco israeliano alle installazioni nucleari degli Yadolah, anche Giordania ed Egitto preoccupati dei piani atomici di Ahmadinejad, capito, capito, poi si legge, si legge su tutti i giornali, mi pare, quasi tutti, quasi tutti, cari amici, ma ve l'avevo detto, ve l'avevo detto qualche giorno fa, adesso non mi ricordo più i titoli dei video, non ricordo più, l'ultimo è Niente Shoah, Niente Israele, che se non fosse per i fratelli arabi, stanno dietro Gaza, per i fratelli arabi, e da tanto tempo che i palestinesi e gli israeliani avrebbero fatto la pace, da quanto tempo, e il fatto è che il conflitto israelo-palestinese fa tanto comodo a tanti paesi, cari amici, e voi di io a piangere su quei video scopiazzati che ballano sulla rete, voi di tutti a piangere, e però nessuno vi fa ballare i video su quello che accade in Cina, che è diventato un lagare esterminato, ballano poco i video su Teheran, dove i vostri coetanei vengono allegramente stuprati nelle carceri, e non ballano mica tanti video sulle stragi, sulle infamiche, sulle guerre, stragi che avvengono in Aria, no, no, sono tutti riconcentrati perché c'è di mezzo Israele, gli ebrei, gli sporchi dei Cidi, dei Cidi hanno ucciso il nostro Dio, hanno ucciso il nostro Dio, pronto tutto lo a ballare, il siparietto, il siparietto e tutti i giovani che ci cascano, perché manco se lo immagino, io non dico che lo dovreste sapere, perché è chiaro che sono cose che avvengono dietro le quinte, però potreste pure immaginarvele le cose, ci sono da tre anni su YouTube, ve l'ho già spiegato, cos'è il patriarcato, no, chi mi ha seguito non dovrebbe bravigarsi poi, se chi non mi ha seguito è perdonato, ma chi mi segue non si dovrebbe vergognare, che il siparietto vi faccia vedere le ballerine e che poi dietro le quinte invece si svolgano le cose sostanziali che voi non vedete, ma che potreste immaginare, le cose che non si vedono con questi occhi qua, ma che potreste cercare di vedere con gli occhi della mente, cioè della comprensione delle vicende padercali. Allora, l'Arabia Saudita è pronta a garantire un corridoio aereo verso Teheran in caso di attacco alle installazioni nucleari degli Agatola. Ah, anche Giordania ed Egitto preoccupate dei piani atomici di Ahmadinejad, ma ve l'avevo detto, ve l'avevo detto tante volte, che se non fosse per interessi che si muovono dietro al conflitto israelo-palestinese, ma da tanto tempo si sarebbero formati due stati, uno lo stato israeliano e lo stato palestinese, ma non si vuole che facciano la pace, capito? Non si vuole, ci sono troppi interessi dietro, è inutile far ballare quei video scopiazzati. Adesso quelli che fanno ballare quei video scopiazzati ci vengono a fare dei video dove ci spiegano per quale motivo. L'islamica Arabia Saudita, l'islamica Giordania, che dovrebbero essere amiche dei palestinesi e nemiche di Israele, e hanno aperto i loro cieli ai jet israeliani, nel caso che dovessero portare qualche pillola nucleare sull'Iran. E' perché dice che l'Arabia Saudita e la Giordania sono poco interessate, sono poco interessate alle sanzioni internazionali recentemente deliberate contro l'Iran. L'Arabia Saudita e Giordania, ma anche altri sceiccati, dice che l'Iran se ne fa un baffo delle sanzioni internazionali, si vuole la bomba atomica, vuole la bomba atomica, se ne frega, poi ci sono le modalità per girare l'embargo, il coito embargo, ma cari amici, ma quante volte ve lo deve dire Serafino Massoni, che a seguito di alcune guerre israelo-palestinesi, diciamo quasi tutto il popolo palestinese, andò a trovare rifugio in terra di Giordania, in Giordania, in Giordania, e che da oblige dentro tre, quattro, cinque anni, poi il re di Giordania si stufò dei palestinesi, capito? E li cacciò via con l'esercito, dice ritornatevi da dove siete venuti, il re di Giordania piccolino, non so come si chiamasse allora, tanto piccolino era, eppure gli ha mandato contro l'esercito, gli ha mandato contro l'esercito ai fratelli palestinesi, li ha fatti ritornare da dove erano scappati, cioè sono tornati in Palestina, capito? Assieme agli ebrei, si chiamò Settembre Nero, si chiamò, andate a digitare Settembre Nero, e digitate come si deve però, Settembre Nero e la fuga dei palestinesi, per esempio, no? La fuga, quando l'esercito Giordano li fece, Giordano, paese arabo, arabo, quindi doveva essere amico dei palestinesi, e nemico dello Stato di Donore, via via via, scappate via, ve l'ho detto, si tiene molto celata questa notizia, molto celata, quanti brutti interessi cari amici che si c'erano dietro le quinte, voi state lì a guardare solo il Sibarietto, state a guardare il Sibarietto, e ancora non vanno insegnato che dovete guardare dietro le quinte, cari amici, dietro le quinte, ed è tanto tempo che ve lo insegna Seraphino Bassoni, ma pensate che io, adesso non ricordo, in un video intitolato di un annetto fa, suppongo, un annetto e mezzo fa, intitolato Israele-Iran, boh, Israele-guerra nucleare-Iran, avevo persino ipotizzato che entro qualche annetto, cioè quando El Mossad avesse saputo con certezza che ormai l'Iran è pronto, domani andiamo a fare la bomba atomica, e avevo già ipotizzato un intervento unilaterale di Israele, un intervento con la mia fantasia è progettato in maniera che fosse, qua si tratta di un bombardamento nucleare, non è uno scherzo, è un bombardamento nucleare che è causato da Israele, ma per finalità difensiva, difensive, cioè Israele progetta un attacco nucleare sul suo territorio, cioè lo stesso Stato di Israele fa partire un velivolo con un piccolissimo orghigno nucleare, fa partire un velivolo da una qualche località sperduta dell'Iran, con una piccola bomba nucleare, l'ordigno poi procede verso Israele nottetempo, e poi scarica la piccola bomba nucleare a nord di Israele, attacco nucleare, casus belli, casus belli, ed è giustificata la risposta nucleare e a questo punto anche se la bombina nucleare è piccola piccola, se c'è l'attacco nucleare si risponde con tutte le forze nucleari e quindi viene distrutto l'Iran, l'Iran viene distrutto nel senso che le bombe vengono scaricate sui siti nucleari e si fa regredire l'Iran di 100-150 anni sul piano tecnologico-economico, va bene? E poi Israele risulterebbe anche come stato aggredito, il casus belli non l'ho mica inventato io, il casus belli, molte volte il casus belli serve anche per difendersi, per difendersi, per difendersi ci mancherebbe altro, io ho ipotizzato che pure l'aggressione a Pearl Harbor che i cinesi, cioè i giapponesi di Impero del Salutevante è andato su Pearl Harbor, hanno visto il belli proditoriamente, ovviamente loro sono andati proditoriamente e loro pensavano di distruggere tutta la flotta americana, soprattutto speravano di distruggere le portaerei, hanno fatto una bella distruzione a Pearl Harbor, a Pearl Harbor e però poi mentre stavano a tornare indietro i piloti nipponi ci hanno detto ma com'è che non c'è manco una portaerei, non c'è manco una portaerei perché era di quelli che avevano paura e io ho ipotizzato che a Pearl Harbor ci fossero dei ferri vecchi, i ferri vecchi ci fossero e che i servizi segreti americani fossero all'erta, ha detto ebbè dobbiamo accettare il caso Sbelli, cioè l'hanno creato il caso Sbelli, ad arte, ad arte, perché loro dovevano portare in guerra e i governanti americani dovevano portare in guerra contro il Sol Levante una grande democrazia di 200-250 milioni e lì i cosi come si chiamano i presidenti della Repubblica non sono mica come il Fulero come il Duce che basta così uno schiocco di dita e via l'esercito parte e gli devi dare un motivo al popolo che abita in una democrazia gli devi dare un motivo il caso Sbelli va creato ad arte e così qua anche Mossad potrebbe o potizzato un anno fa andato a voi a cercare quel video Israele e Ira non mi ricordo bene e qua si tratta di attaccare l'Iran sul piano nucleare già Israele lo attaccò l'Iraq ai tempi di Saddam Hussein e gli fece zompare via tutto ma quello fu un attacco forte ma con armi convenzionali e qua se si vuole fare un attacco nucleare bisogna creare il caso Sbelli si fa si fa aggredire Israele Israele inventa un attacco nucleare contro se stesso una piccola bomba atomica piccola piccola va bene e adesso vedete cari amici siamo arrivati al punto cari la popolazione di Gaza è schiava di un perfido gioco dove sono tanti a spartirsi il bottino in primis ci stanno i capi fanatici della popolazione di Gaza la popolazione di Gaza nel 90-98% se potesse distrozzerebbe con le proprie mani i capi fanatici di Gaza e i bombardamenti di 2-3 anni fa e c'erano tutti quei missili che partivano contro Israele io volevo vedere se chiesto dalla Svizzera ogni giorno partivano 2-3 missili contro di noi che cosa avremmo fatto noi non so se mi spiego è che dove abbozzare sempre abbozzare noi non abbozziamo noi tiradiamo al suolo così per 50 anni o 100 anni non potrei più ricominciare a mandarmi i missili ma i missili sono stati mandati dai capi fanatici mica dal popolo palestinese di Gaza il quale vuole la pace il popolo palestinese ha ricevuto nel corso di 30-40 anni tanti e tanti di quei contributi internazionali che se non ci fossero stati gli intrighi gli intrighi di tanti paesi sarebbe il popolo più ricco del mondo questi intrighi sono soprattutto gli intrighi dei paesi arabi ma come ve lo devo spiegare giovani tanto ingenui ma come ve lo devo spiegare i paesi arabi produttori di petrolio di petrolio sono paesi quasi tutti con monarchie feudali la monarchia saudita è una monarchia feudale il popolo vive benché lì ci sia una ricchezza incredibile e questa ricchezza è tutta nelle mani della monarchia allora poi ci sono gli sceiccati e gli sceiccati del petrolio e anche lì organizzazioni feudali primitive e lì per evitare che il popolo il popolo incominci a pensare alle questioni interne e gli somministrano delle vicende esterne per cui da una parte questi sceiccati queste monarchie questi potentati del petrolio vendono le armi i palestinesi vendono tante armi vendono capito quindi sobillano la guerra dei palestinesi contro lo stato di israele dall'altra parte però segretamente fanno pure di patti con israele e salta fuori adesso vedete che gli amici ma che cosa doveva fare Carlo Collodi che l'ha scritto in Pinocchio in Pinocchio la verità non bisogna dire le bugie perché le bugie o hanno le gambe corte o hanno il naso lungo salta fuori ma se la Vino Massoni ve l'aveva detto solo che voi non si credete mai se la Vino Massoni ve l'aveva detto 3-4 giorni fa sulla faccenda di Gaza ve l'aveva detto che dietro c'è il gioco sporco dei paesi arabi produttori di petrolio loro i paesi arabi produttori di petrolio devono dirottare l'attenzione dei loro sudditi sul conflitto israelo-palestinese capito lo devono diritti così il popolo pensa ai cattivi ebrei ai cattivi ebrei e non pensa a fare una bella rivolta per rovesciare le monarchie feudali capito ho capito ma quando le capirete queste cose voi vi lasciate impressionare dal primo video che parla su web vi lasciate impressionare e non fate come come Buddha risalire dagli effetti alle cause cause effetti cause effetti tornare un po' indietro al ritroso tornare indietro al ritroso perché se c'è un effetto vuol dire che c'è una causa la causa poi la sua volta è un effetto di una causa precedente e adesso salta fuori non lo so se adesso aprirete gli occhi aprirete gli occhi aprirete gli occhi non lo so spero che li apriate gli occhi cari amici quando leggerete che l'Arabia Saudita e la Giordania la Giordania sembra che ci sia di mezzo pure l'Egitto ha detto a Israele noi apriamo i nostri cieli ai tuoi jet stai tranquillo puoi sorvolare i nostri cieli Israele col tuo bel carico di bombe atomiche così ci liberi da quell'incubo che è l'Iran e perché l'Iran non gli piace mica tanto perché sia un paese islamico l'Iran è un paese sciita invece lì nella zona petrolifera sono quasi tutti sunniti sunniti come Saddam Hussein capito? sunniti sono e c'è un odio feroce tra sunniti e sciiti come c'è un odio feroce tra cattolici che so luterani o tra cattolici greco-ortodossi ditegli al Papa voi che vada in Olanda dove ci stanno i luterani quelli incattiviti diceva a me che non l'ha andata il Papa nostro e manco c'è voglia di dire non lo vogliono il Papa non lo vogliono manco nella Russia nella Russia che ricordo d'ossa non credo che non c'è mai andato ma non credo che ci vada e così carini si odiano si odiano vedete gli odi gli odi le monarchie petrolifere dice Icati le monarchie petrolifere del Medio Oriente islamiche ma ma sunnite odiano l'Iran che è islamico ma sciita non vanno d'accordo fra sciiti e sunniti si scannerebbero capito sarebbero disposti a far patto col diavolo pur di distruggersi capite cari amici sveglia sveglia questo canale io l'ho aperto apposta per svegliare le vostre menti capito quando ho fatto un video quando faccio un video ci dovete credere subito anche se la cosa vi sembra tanto strana voi dovete crederci subito vi ho reso l'idea cari amici ve l'ho aperta le menti cari amici credete avete la fortuna di avere questo canale di Serafino Massoni approfittatene per aprire le menti e ragionare se non non dico a 180 gradi ma insomma andarci vicino ai 180 gradi l'ideale sarebbe ragionare a 360 gradi ma già mi basta che voi arriviate ai 180 alla metà a 180 gradi ma che bello ma che bello ma che bello soprattutto ma che bello provenire dalla falce e martello e guidare andare sull'auto blu anche se non c'è il sangue blu come nel caso di 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 Fausto Bertinotti ma che bello ma che bello provenire da quel bordello dal 68 poi come Mario Cabana e poi andare a scrivere sul quotidiano della famiglia Berlusconi cioè il giornale ma aprite le menti ragazzi non state lì a badare alle parole badate ai fatti e se i fatti non li vedete provate a immaginare quello che avviene dentro le quinte capito da Israele all'Ira ne ritorno biglietto di andata e ritorno i paesi arabi i fratelli i paesi arabi i fratelli dei palestinesi i palestinesi ora rafforzano Israele consentendo a Israele quando sarà il momento di andare a neutralizzare il fratello arabo dell'Iran islamico come loro islamico perché anche nell'Iran c'è l'Islam come in Arabia Saudita come in Giordania però è un Islam un Islam un po' diverso c'è sempre Allah però come da noi che c'è sempre Cristo però c'è il cristianesimo cattolico il cristianesimo protestante il cristianesimo greco-ortodosso eccetera 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 così là da loro tra gli islamici il Dio è sempre Allah però ci sono tante forme di islamismo l'Islamismo capito? e gli islamici e gli islamici si sentono più sicuri gli islamici sunniti dei paesi petroliferi si sentono più sicuri col nemico israeliano piuttosto che con l'amico islamico iraniano capito? le cose in patriarcato vanno proprio come ve lo ha sempre detto Serafino Massoni ma quand'è che le capirete le cose e che la smetterete di dubitare di Serafino Massoni che fa di tutto per svegliare le vostre menti va bene cari amici e ora godetevi godetevi questo meraviglioso articolo qua su questo blog qua ah ma sta anche scritto sui giornali serie sta scritto pure sui quotidiani seri di oggi anche su questo blog però eh e si merita che se ne parli di questo blog vi ha da priceli ai ceti di Israele contro l'Iran eccetera 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 va bene va bene cari amici andateglielo a dire queste cose a quelli che fanno ballare i video lì che fanno il siparietto con la pace la nave dei pacifisti a Gaza c'è anche la tragedia noi ci fanno il siparietto intanto che tutte le nostre attenzioni sono concentrate sul siparietto dietro le quinte avvengono queste cose queste cose capito queste cose ai fratelli arabi petroliferi vatti affidare tu dei fratelli arabi petroliferi va bene cari amici dovrebbero essere amici dei palestinesi invece gli danno una mano israele a far saltare per aria lì l'han capito capito cari amici come vanno le cose in patriarcato datele a Serafino Massoni che è l'unico in Italia che ha fatto degli studi approfonditi sul patriarcato e sul passaggio dal patriarcato al patriarcato quindi queste cose Serafino Massoni le conosce bene va bene cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti